Ciao da Avsim! Con la penuria improvvisa di difensori, con gli infortuni tanti, troppi, soprattutto muscolari, il Milan corre ai ripari con il mercato e quindi sblocca il prestito di Matteo Gabbia che rientra dal Villareal dove era andato in estate, interrompe praticamente questa stagione di passaggio, una stagione, o almeno una prima parte di stagione qui comunque non aveva giocato tantissimo, non stava giocando tantissimo, ma si guarda anche ad altri due profili e allora ne parliamo. Io detesto il calciomercato, infatti non parlo di calciomercato nei termini di occasioni trattative, andiamo a prendere questo, andiamo a prendere quell'altro. Emergono dei nomi, quelli più credibili, quelli più fondati, li vado ad analizzare dal punto di vista prettamente di campo e quindi parliamo di come gioca in particolare Filippo Terracciano del Verona, di come gioca Lilian Brassier del Brest e di come ha giocato e sta giocando Matteo Gabbia. Che cosa danno, che cosa possono dare al Milan di Pioli, a questo Milan di Pioli in questo momento a livello tecnico, a livello tattico, a livello di qualità, a livello di caratteristiche? Quindi parliamo di calcio, mercato, senza mercato. Naturalmente Matteo Gabbia lo si conosce molto bene, ha lasciato il Milan proprio la scorsa stagione, è stato proprio Pioli a farlo esordire sia in Serie A che in Champions League, ma non ha mai giocato tanto, non ha mai giocato tantissimo Matteo Gabbia al Milan, tant'è che la decisione di mandarlo in prestito la scorsa estate, per lui che è nato il 21 ottobre 1999, quindi non è giovanissimo pur essendo un difensore centrale, è stata quindi a 23 anni, dice vai in prestito, è stato probabilmente, anzi sicuramente per fargli fare più minuti. Nel Villareal parliamo infatti di 13 presenze, di cui 6 in Europa League per un totale di 974 minuti, quindi è stato preso in considerazione molto, moltissimo in Europa League, ma molto meno, decisamente meno nella Liga e quindi è rientrato, questa è l'unica operazione già definita, già definitiva, già chiara, già indiscutibile, cioè certificata, Matteo Gabbia è tornato al Milan. Come rendimento, per quello che ho potuto vedere e recuperare di questi mesi al Villareal, diciamo che comunque non è che ha brillato. Matteo Gabbia è un buon giocatore, un buon difensore per quanto riguarda l'impostazione, è abbastanza veloce, cioè ha una certa velocità di esecuzione nei passaggi, però da un punto di vista prettamente difensivo, tra duelli, quindi ricerca del recupero del pallone, uno contro uno, copertura della profondità, posizionamenti, non brilla, anzi, commette spesso errori, si fa saltare, è capitato comunque di farsi che si sia fatto saltare da difensore centrale nel Villareal, quindi non ha questa affidabilità massima in questo momento, probabilmente, per fare il titolare in un Milan di Pioli, se è ancora quello, il Milan di Pioli, facciamo questa premessa, che comunque gioca con una certa difesa alta, che comunque lascia i difensori centrali, tra virgolette, da soli, dietro, con il supporto della mediana e sbilanciando i terzini davanti, un po' entrambi, ma soprattutto quello a sinistra. Poi arriviamo anche a parlare del terzino, perché dobbiamo parlare di Terracciano, arriviamo a parlare anche di Teo Hernandez e di come può evolvere il Milan con Terracciano, trattativa molto difficile. Il Milan è avanti, il Verona è in difficoltà e quindi sta un po' vendendo, però ci sono anche altre squadre per quanto riguarda Terracciano, ci sono molti interessamenti, quindi Gabbia io non credo, onestamente, che possa dare la soluzione, che possa rappresentare la soluzione alle necessità del Milan in questo momento in cui ci sono questi infortuni e c'è questa carenza di difensori centrali. È un buon difensore, conosce benissimo l'ambiente, conosce Pioli, quindi è un ritorno dopo un brevissimo tempo, per cui sicuramente può avere un impatto positivo per Gabbia il ritorno al Milan, ma per il Milan il ritorno di Gabbia non lo so. Non sto dicendo che sia un difensore scarso, ci mancherebbe. È un buon difensore per una Serie A, ma non proprio per il Milan. Sicuramente anche in Europa League, che ha già giocato, potrà dare il suo contributo nei limiti in cui il Milan riuscirà naturalmente ad andare avanti, però non è un difensore, secondo me, in questo momento completo e perfetto da Champions League e da lotta ai vertici della Serie A. È un buon difensore da un punto di vista di un contributo che può dare come minutaggio integrativo, lì dove manca qualcun altro, in determinate partite. Ma comunque ha una buona prestanza fisica, che gli consente di coprire ampie porzioni di campo, però davvero ho visto nelle ultime partite di Matteo Gabbia con il Villareal davvero diversi difetti, diverse problematiche che possono essere poi un pericolo per il Milan. Invece, per quanto riguarda Lillian Brassier, giocatore del Brest, c'è da dire molto di più e molto più interessante. È quasi coetaneo, praticamente coetaneo di Gabbia perché è del 2 novembre 1999, quindi anche lui ha compiuto da poco 24 anni. È un giocatore che era cresciuto nel Rennes, francese con nazionalità anche della Guadalupa, per poi passare già nel 2020 al Brest in prestito, per poi essere riscattato per una cifra inferiore a 2 milioni. Ora, la valorizzazione di Brassier è in dubbio perché adesso ha una valutazione di circa 8 milioni, tra l'altro con un contratto che va in scadenza la stagione prossima, cioè è nell'ultimo anno e mezzo di contratto con il Brest. Quindi stiamo parlando di un difensore che non costerebbe poi tantissimo in questo momento, non ho visto, non so se c'è clausola recessoria, non mi piace il calcio mercato. Quindi lasciamo stare se c'è clausola recessoria, quanto può essere facile o quanto può essere difficile andarla a prendere in termini proprio di calcio mercato. Stiamo parlando però di un giocatore che rappresenterebbe un investimento anche in parte per il futuro perché ha margini di miglioramento, è in crescita, è in miglioramento e ha, diciamo, le caratteristiche giuste, probabilmente le caratteristiche giuste per un certo Milan di Pioli, se il Milan di Pioli vuole essere quello che è stato fino ad un certo punto. Quindi sono quattro stagioni praticamente, questa è la quarta stagione che Brassier è al Brest e ha sempre giocato tantissimo, tranne la prima stagione in prestito, poi da quando è stato riscattato ha sempre giocato tantissimo, ha già accumulato 1329 minuti in 15 presenze in Ligan, ha giocato solo in Ligan in questa stagione, ma è veramente un punto di riferimento, cioè dal punto di vista degli infortuni solidissimo, affidabilissimo, incrollabile e immancabile. Quindi Brassier da questo punto di vista ti dà delle certezze. Dal punto di vista del gioco, anche. È un difensore abituato a fare la primissima impostazione molto basso. Lui, tra l'altro, piede preferito sinistro, quindi gioca prevalentemente sul centro-sinistra, in realtà però in una difesa a tre. Ora, il Milan gioca anche a tre, perché, come dicevo, quando ci sono i centrali, Teornandez fa tutta la fascia e magari si stringe Florenzi o Calabria, prevalentemente Calabria, restano a tre dietro due e mezzo, per cui non sarebbe impossibile per Brassier slittare verso sinistra e ricoprire gli stessi posizionamenti in possesso che ha avuto e ha nel Brest. Da considerare però che non è soltanto un difensore di primissima impostazione molto bassa, cioè è praticamente il primo giocatore del Brest che prende palla dal portiere, che riceve il passaggio corto dal portiere, per poi andare ad un'impostazione pulita quasi banale, quasi un'impostazione banale senza particolari giocate illuminanti, anche se è abbastanza bravo pure nel lancio lungo, non è uno che butta il pallone, a differenza di Gabbia. I lanci lunghi di Gabbia sono un po' un pallone buttato. L'impostazione tra l'altro di Brassier è tipicamente do il pallone e sto, passo e mi fermo, non è un dai e vai. Questo non è proprio da Milan, di Pioli, quello che di buono abbiamo visto, non quello che si sta un po' smontando di recente, perché lì c'era bisogno di un certo movimento, do il pallone e comunque mi metto in movimento. Questo non sto dicendo che Brassier è uno statico, che nel Brassier ha giocato con quelle istruzioni tattiche in questo modo. Poi però, quando si tratta di anticipi, duelli, uno contro uno, copertura della profondità, con Brassier si va quasi al 100% sul sicuro, insomma, con il 100% esagerato. Comunque si sta abbastanza tranquilli, perché uno tra l'altro con un'ottima prestanza fisica, 1,86, un bel fisico prestante, prestante, che impiega molto bene nel giocare d'anticipo, nei posizionamenti giusti. Cioè, è difficile fregare Brassier nell'attacco della profondità, nella ripartenza, nel contropiede. Molto, molto bravo anche a tenere in fuorigioco gli avversari. Discreto di testa, ha fatto qualche gol di testa, su corner naturalmente, quindi darebbe diverse cose in più, diverse cose in più al Milan. In un certo senso ricorda per qualcosa Tomori, però Tomori, secondo me, è più dinamico, è più dinamico, sa quasi partecipare di più e meglio al centrocampo, anche rispetto ad un Brassier, che è più tipicamente difensore centrale, a cui non ti puoi tanto affidare, anzi, quasi per niente, nella costruzione in mediana, ma a cui ti puoi affidare nella primissima costruzione e poi nello stare alti. Cioè, con Brassier puoi fare difesa alta. Se il Milan di Pioli vuole continuare a fare difesa alta, come l'ha fatta fino a un certo punto? E' quella la domanda. Quindi collocando Brassier nel miglior Milan di Pioli ci sta benissimo. Ci sta benissimo. E con queste caratteristiche, con queste qualità. Chiudendo su Filippo Terracciano. Di Filippo Terracciano si parla tantissimo, perché è veramente un giocatore interessante. 8 febbraio 2003, sta per compiere quindi 21 anni. È nato a Verona e ha sempre giocato nell'Ellas Verona fin dalle giovanili. Piede preferito destro, ma sa giocare anche a sinistra e ultimamente sta giocando più a sinistra che a destra con il Verona. Il discorso che io faccio fatica a capire, tra l'altro sta giocando tanto, già a 1376 minuti tra campionato e Coppa Italia, 19 presenze. Quello che io non riesco a capire è Terracciano al posto di Krunic, con cui c'è Rottura, Val Fenerbace, Animi non distesi più per quanto riguarda Rade Krunic, che era il pupillo di Pioli. Ma che c'entra? Perché qui mi sembra la replica di Musa preso per fare il mediano e poi come dissi in estate, guardate che Musa è un esterno destro di centrocampo e infatti è lì poi che sta giocando negli sviluppi di gioco, anche se poi nominalmente parte magari in mediana. Terracciano non è un difensore centrale, può fare il difensore centrale, ma se metti Terracciano a fare il difensore centrale e perdi tutte le qualità di Terracciano. Le qualità di Terracciano sono passo il pallone e faccio la sovrapposizione, passo e mi sovrappongo, passo e mi sovrappongo, 200 volte a partita. Sovrapposizione esterna e interna e lo sa fare a destra e a sinistra. Ha un ottimo piede per il cross, sia destro che sinistro, sa crossare benissimo destra e sinistra. Si sa proporre in avanti nell'azione d'attacco, poi corre tanto, fa buoni ripiegamenti, è bravo anche nelle letture difensive, ma non eccellente. Quindi Terracciano sarebbe più un'alternativa, sarebbe più un terzino destro al posto finalmente di Calabria, che per me è un giocatore limitante per il gioco del Milan, e anche di Florenzi, ma ancor più al posto di Teo Hernandez. Il problema però qual è? Che oggi sta giocando Teo Hernandez in mezzo, perché mancano i difensori centrali, ma se vai a risolvere il problema del difensore centrale, Teo Hernandez lo metti a sinistra e a quel punto Terracciano, a cosa precisamente ti serve? Non che non serva, perché è un giocatore validissimo, anzi è pure un investimento per il futuro, non deve neanche per forza servire subito. Ecco, magari mi manca qualche tassello sulle prospettive del Milan, su cose il Milan intende fare nella prossima stagione, se c'è qualche giocatore che è necessariamente in uscita, magari lo stesso Teo Hernandez, chi lo sa, e quindi per pararsi da questa eventualità vanno a prendere, magari a gennaio, Filippo Terracciano. Il discorso lo metti a centrocampo? Sì, può avere il suo perché, ma in mediana pure ci vai a perdere, perché è un giocatore che deve giocare laterale, deve stare esterno. Poi sa giocare anche dentro il campo, anche molto bene, pulito nei passaggi, ripeto, ha sempre un'idea, ha sempre un passaggio pronto, e verticalizza tantissimo. Quindi per un Milan, come era quello di Pioli, che in parte non c'è più, in cui c'è la difesa alta, e si gioca molto in verticale, e si gioca molto sugli esterni, Terracciano è perfetto, va benissimo, Brassier è utilissimo, gabbia un po' meno, ed è l'unico che è stato effettivamente già acquistato, riacquistato, sbloccando questo prestito. Questo per dire che cosa? Nulla, per analizzare le possibili o attuali mosse di mercato del Milan, per quanto riguarda la difesa, io punterei soprattutto su Lillian Brassier, che secondo me è un difensore validissimo, niente di stratosferico, ci si deve poi lavorare, ma a ottimi margini di miglioramento, per l'età che ha, può essere un titolare in Serie A tranquillamente, ma tranquillamente fare un'ottima figura, non stiamo parlando di un fenomeno, ma di un buon, buonissimo difensore. Non ho adesso il quadro completo di quanti e quali altri migliori di Brassier ci sarebbero, e sicuramente ce ne sono, e a quali condizioni, quanto facile sarebbe eventualmente un acquisto da parte del Milan, ma questi sono i nomi che vengono fatti da più fonti, per cui un interessamento c'è, evidentemente una trattativa c'è. Vedremo se poi il Milan, oltre a Gabbia, prenderà anche Brassier o qualcun altro, si parlava anche di Langlais, se si porterà a termine l'operazione Terracciano, che potrebbe anche essere, lasciandolo al Verona, lo compro adesso, lo lascio al Verona in press, non lo so, e di questo poi eventualmente parleremo, sperando comunque di vederli in campo. Quindi un passaggio preliminare di calciomercato senza mercato, parlando di campo, per poi vedere poi sul campo, se effettivamente ci saranno tutti quanti, come se la caveranno, come si comporteranno. E quindi in attesa dei prossimi video di campo, sulle partite, vi ringrazio per l'attenzione. Buon dibattito nei commenti, su Gabbia, Terracciano, Brassier, e il resto che sta facendo il Milan. Il dibattito prosegue su Discord, link in descrizione, con tante chat per parlare di calcio, e specificamente anche del Milan. Mettete like al video se vi è piaciuto e condividetelo con chi può essere interessato ad un'analisi di campo di questi potenziali acquisti del Milan e iscrivetevi al canale attivando le notifiche, così da guardare anche i prossimi video. Abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi, anticipazioni, contenuti esclusivi, live, community, eccetera, e seguitemi su Avsim Out, il mio secondo canale YouTube, raggiungibile dal primo link nella descrizione. Ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore. Grazie a tutti.